La riserva naturale speciale delle sorgenti del belbo costituisce un'oasi di particolare e un interesse naturalistico per la ricchezza e la varietà della flora e della fauna presenti. La peculiare posizione geografica rende il bacino sorgentifero un raro esempio di zona umida di bassa montagna. La peculiare posizione geografica rende il bacino sorgentifero un raro esempio di zona umida di bassa montagna e la flora che in primavera colora il bosco e i prati. Con i bucaneve, la cui precoce fioritura avviene talvolta quando la neve non è ancora del tutto scomparsa, spuntano le primule, le piccole viole, i crocus e i candidi e profumati mughetti. La peculiare posizione geografica rende il bacino sorgentifero un raro esempio di zona umida di bassa montagna. La peculiare posizione geografica rende il bacino sorgentifero un raro esempio di zona umida di bassa montagna. Le acque del torrente Belbo non sgorgano da punti determinati di una o più sorgenti, ma provengono da vaste aree umide originate dall'affioramento di numerose falde freatiche. L'umidità del terreno favorisce lo sviluppo e la crescita di una rigogliosa vegetazione tipicamente palustre. La peculiare posizione geografica rende il bacino sorgentifero un raro esempio di zona umida di bassa montagna. L'umidità del terreno